Nel suo docufilm del 2009, nel quale appunto riprende il romanzo omonimo di Di Nata, era forte il tema della riappropriazione di sé, della ricerca della propria voce di una donna ormai adulta che guardava alle spalle un pezzo di vita e di carriera. Invece qui l'attenzione si sposta sull'infanzia e l'adolescenza. Ero curiosa di sapere su quali aspetti avete posto l'accento, lei e la sua coscieneggiatrice Monica Rametta. Abbiamo posto l'accento sui aspetti universali di questa storia, cercando di attingere alle cose che sono veramente radicate dentro ciascuno di noi. Per esempio le paure dell'infanzia, per esempio la difficoltà di stare nel posto in cui si è quando si sta male, come nel caso di Viviana. Ecco, abbiamo cercato di focalizzarci su quelle corde universali che potessero trascendere il racconto biografico di Nata e parlare a tutti. Nel film ci sono due sequenze che ho trovato essere molto importanti, delle spartiacque della vita di Nata. Una è quando da bambina al matrimonio della sorella canta davanti a tutti per la madre e l'altra è quando la va a trovare anni dopo in ospedale. In entrambe le sequenze c'è tanta luce, c'è tanto bianco, ma questa luce e questo bianco hanno dei significati differenti. Volevo sapere come aveva lavorato su questo aspetto, su questa costruzione di queste due sequenze insieme alla direttrice della fotografia, alla scenografa e alla costumista. Allora, sono felice di questa domanda. Grazie. Allora, è bellissima questa domanda perché mi permette di dire delle cose. Cioè, queste sono due scene di chiarificazione, nel loro senso della parola, di illuminazione. Ecco perché c'è questo chiarore. Quindi nella scena del canto, durante il matrimonio della sorella, quello è il momento di svolta in cui la bimba decide di cantare per la mamma. E in quel momento diventa qualcosa di altro, cioè il suo piccolo corpo contiene qualcosa di potente. Questa potenza è talmente forte che lei a un certo punto sviene. Questo momento è un momento di adesione molto forte a qualcosa che è più grande di sé, molto più grande di sé. Ed è un momento in cui il racconto, diciamo, chiarifica la sua portata, diventa qualcosa di gigantesco. E infatti da quel momento in poi non si torna più indietro, perché lei deciderà appunto di cantare per la mamma. E quindi abbiamo lavorato con la scenografia, con Bellatrice Scarpato, la scenografa, con Francesca e Roberta Vecchi, le costumiste, e con Sabrina Varani alla fotografia, cercando il più possibile di restituire lo bianco. Questo biancore che si fa sempre più bianco fino a diventare, diciamo, appunto il colore che contiene tutto e non contiene niente. Questa, e l'abbiamo fatto anche, per esempio, pensavo all'immaginario dell'angioletto, no? Col costume, io proprio, io adoravo questo, cioè mi sono immaginata l'angioletto di porcellana, no? Questa cosa che proprio sembra proprio un piccolo angioletto di porcellana che sta lì e che ti assomiglia, perché l'hai visto, da qualche parte l'hai visto già. E per la scena dell'ospedale, la scena dell'ospedale contiene dentro di sé un valore di chiarificazione che ha un altro significato, naturalmente, nel senso che fa precipitare la storia dentro la portata della storia, la storia grande con la S gigante, cioè il trattamento delle donne, come venivano trattate in quel luogo, ma non solo, ma anche il modo in cui nada, si rende conto, che non sarà per la sua bella voce che la madre guarirà. Quindi è un momento di risvolta anche quello dal punto di vista del racconto. E abbiamo lavorato amplificando al massimo il biancore, abbiamo cercato di rendere, di restituire il senso fantasmatico delle persone che abitano quegli spazi, come se fossero degli spazi di fantasmi, abbiamo cercato di costruire la paura che Viviana possa diventare come quelle donne lì, perché tu, quando arrivano all'ospedale, vedono le donne vecchie, e poi c'è una specie di spaesamento, abbiamo cercato di restituire lo spaesamento. Il suo film parla anche di memoria, una memoria che è intima, cioè quella di Nada, dei suoi ricordi, ma anche collettiva, perché penso anche alle canzoni che sono state scelte. Raccontano, le parole sembrano proprio indirizzate da Nada alla madre, parlano del loro rapporto, però ad esempio io stessa mi sono ritrovata nei ricordi di mia mamma bambina quando con la famiglia, senza televisore, andavano dai vicini perché erano gli unici che avevano la tv nel quartiere. Volevo sapere se la storia di Nada le è servita per raccontare anche altro e magari anche un po' della sua di memoria. Allora, sicuramente questo è un viaggio nella memoria collettiva, nella memoria collettiva musicale, certamente, ed è vero che sì, la storia, in qualche modo fare questo film, mi ha permesso di attingere anche alla mia di memoria. Per esempio, nella figura del maestro De Nildo, che è un personaggio che esiste nel libro di Nada, esattamente più o meno così, nel senso che è un uomo, che è un romanticone. Io l'ho fatto anche un po' assomigliare a una persona che ho conosciuto, che era un mio zio che suonava il pianoforte, e mi ricordo da piccolissimissima che c'erano queste domeniche dove lui suonava il pianoforte e tutti si fermavano. E le canzoni erano quelle lì. Mia zia cantava Io ti darò di più, cantava Mina. Ecco, ho sentito su di me la portata del racconto di Nada, ho sentito che su di me aveva questa efficacia, quindi ho pensato di poter condividere questa efficacia con tutti gli altri, con gli spettatori. Sul finale del film c'è una versione di Ma che freddo fa, che parte in un modo, o meglio, parte nel modo in cui la conosciamo, e poi invece ha una svolta più rock. Io personalmente ci ho letto magari una sorta di... la bambina che appunto non voleva cantare ha trovato la sua voce. Lei perché ha deciso di mettere questa versione un po' più forte, un po' più forse simile anche al carattere di Nada? E ho deciso di fare questa versione rock esattamente per il motivo che dice lei, perché penso che sia la sua voce. Mi sembrava giusto fare un'opera di restituzione fino alla fine, quindi a fare come un flash forward sulla vita e non fermarci lì. Grazie mille per il suo tempo e complimenti. Grazie, grazie mille. Grazie.